Manipolazione di mercato pluriaggravata e continuata è l'accusa con la quale il PM di Trani Michele Ruggero ha chiesto il rinvio a giudizio della Standard & Poor's, una delle società di rating indagata dalla Procura per i declassamenti dell'Italia, su denuncia dell'Adusbef. La notizia è stata diffusa dai presidenti di Adusbef Elio Lannutti e di Feder Consumatori Rosario Trefiletti. L'atto notificato all'agenzia sarà consegnato alla Consob perché valuti la possibilità che S&P possa continuare ad operare in Italia. L'inchiesta sulle agenzie di rating coordinata dal PM Michele Ruggero della Procura di Trani prese le mosse, ricordano i presidenti delle due associazioni di consumatori, nell'estate 2010 in seguito ad una denuncia di Adusbef e Feder Consumatori sull'operato di Moody's. Poi è riguardato i casi relativi a S&P e Fitch. Cinque le persone a cui sono stati notificati gli avvisi di garanzia, oltre agli analisti, spiegano le due associazioni, sono indagati infatti anche l'ex presidente Deven Sharma e l'attuale responsabile dell'Agenzia per l'Europa Jan Lepalek. Adusbef e Feder Consumatori è scritto ancora nella nota, grate alla Procura di Trani e al PM Michele Ruggero si costituiranno parte civile nel processo a nome di migliaia di risparmiatori frodati.